Ci siamo? Buonasera, dieci minuti di ritardo, vi prego di perdonarmi, avevo problemi tecnici, ne ho sempre problemi tecnici, non sarò mai disinvolta dal punto di vista tecnico. Vediamo se sono in diretta, se state arrivando, se vedo commenti, se vedo, non vedo nulla, non vedo nulla, ecco, vedo che ci sono tre persone, poi ora sono già tredici e questo mi consola, ventisette e così via, intanto che arrivate, mentre arrivate sabato alle diciannove qualcosa, tutto sommato, dove volete essere, se non a casa, poveretti, intanto che arrivate, vi dico di cosa intendo parlarvi questa sera, questa sera intendo fare, intanto vi dico il bollettino quotidiano dei vivi, dei morti e dei contagiati che mi ispira, non mi ispira ottimismo, perché ho come la sensazione che siamo chiusi senza una prospettiva, senza un processo vero, senza che questi abbiano in mente, né come farci stare chiusi, né come farci rieprire, né che fare ora, né che fare dopo, non lo so, mi piacerebbe che mi dicesse se voi avete sensazioni diverse, intanto la gente che evade, che cerca di scappare sempre di più, insomma ci sono delle cose che non tornano e contemporaneamente dal punto di vista economico io sono molto preoccupata perché vedo arrivare il MES qui, l'organizzazione detta anche meccanismo europeo di stabilità, fondo salva stati, lo vedo arrivare qui addosso a noi e vedo tra l'altro una mancanza di limpidità, di trasparenza, di serietà, un gioco delle tre carte all'interno del governo, Conte e Gualtieri riusciano messi in mezzo anche, credo che sia il direttore generale, si chiama Rivera, credo, un personaggio di scarso interesse, un tecnocrate del quale non dovremmo avere assolutamente alcuna opinione precisa, non dovremmo sapere nulla, invece adesso è diventato quello che forse fa un contrario di Gualtieri, fa il gioco delle tecnocrazie italiane ed europee, non fa quello che è richiesto, ma sarà vero poi, ma ci crediamo poi, siamo certi che sia vera questa cosa, che sia così, vediamo. Poi vi voglio parlare anche delle cose che ha detto oggi Matteo Salvini in un'intervista a Sky TG24, di questo tentativo molto forte, l'altra sera a Piazza Pulita, poi un articolo molto strombazzato di Luca Telese, l'attacco, attraverso un attacco ad Attilio Fontana, l'attacco alla gestione delle regioni virtuose, le regioni del nord, il modello del nord, è un attacco che passa da una parte per il tentativo di far sembrare il governo migliore di quello che è e ce ne vuole di faccia tosta, credetemi, e dall'altra, attraverso il tentativo di far sembrare responsabile della situazione nelle regioni e segnatamente il sistema delle regioni, il privato delle regioni e segnatamente il sistema Rombardo, avendo avuto invece solamente Attilio Fontana il torto, se il torto si può chiamare di ascoltare e seguire il protocollo, i diktat e le quotidiane indicazioni dell'Istituto Superiore della Sanità. Oggi il Presidente dell'Istituto Superiore della Sanità, Locatelli, era in conferenza stampa, non so se l'avete seguita, se l'eseguite queste conferenze stampa quotidiane del 18, sembra la notte dei morti dei venti, sembra degli zombie, ora per carità non è che debbano sorridere o ridere parlando in una situazione tale, ma la loro capacità di empatia, la loro capacità di comunicare con un popolo chiuso in casa è sotto lo zero, sono veramente esterefatta, se c'è tra le tante cose che usciranno da questo, da questa pandemia, tra le lezioni, io mi auguro che sia una lezione che non ci dimentichiamo, è che la burocrazia delenda est, la burocrazia va ammazzata, così proprio, ci sta uccidendo, è quella per cui le mascherine le aziende si riconvertono, le fanno rapidamente o le importano o le fabbricano e poi però manca l'approvazione dell'Istituto Superiore della Sanità, però contemporaneamente diventa chiaro che sulle mascherine ci hanno detto un fracco di bugie dall'inizio, quelli dell'Istituto Superiore di Sanità e i loro sottoposti in giro per gli ospedali e per le tv, soprattutto dicendoci che la mascherina non era necessaria se non agli operatori sanitari, i quali operatori sanitari sono i primi a essere senza, infatti siccome muoiono come le mosche si apprestano loro a querellare lo Stato, a denunciare lo Stato quando sarà finita. Insomma non è una bella situazione e anche questo dibattito che c'è, che è un altro dei dibattiti, di quali parleremo nei prossimi giorni stasera, è quello tra aprire, riaprire o non riaprire, aprire gradualmente e ottenere tutto chiuso. Questo dibattito è un dibattito per il quale, sapete che cosa ci vorrebbe? Ci vorrebbe intanto che non fossimo delle grinfie dei sanitari, ma in quelle di politici e di politici eletti e di politici con il senso di responsabilità che deriva dall'essere stati eletti e mandati a governare, cosa che non è del nostro attuale governo e dei politici autorevoli competenti che si espongono, che rischiano, che se dicono una cosa e hanno sbagliato poi spiegano perché, si scusano, se è necessario si dimettono, eccetera, eccetera. Quelle cose incredibili. Invece noi tutti a dire che negli Stati Uniti Fauci, Anthony Fauci è lo zar della medicina pubblica, Anthony Fauci attacca Trump e dice, no, Anthony Fauci non attacca Trump, Anthony Fauci stretto con me tra il sistema federale degli Stati da rispettare dice, io chiuderei tutto, voi che volete fare? E polemizza, ma polemizza, polemizza apertamente, intanto che a qualsiasi americano sono arrivati in tasca i soldi e qualsiasi tipo di assistenza sanitaria abbia bisogno, assicurazione o no, non pagherà un centesimo. Il punto è, e sono arrivate le navi dell'esercito sulla East e sulla West Coast, intanto che le cose procedono e procedono alla grande e fanno i test alle pompe di benzina, allora intanto che succedono tutte queste cose, quelli polemizzano e va bene polemizzare e vedremo chi avrà avuto ragione, ma noi di che cosa polemizziamo? Che le mascherine non ci sono, i test non sono stati fatti, i tamponi non ci sono, oggi per la prima volta a quanto pare sono diminuiti ricorsi alla terapia intensiva, ma quanta gente è morta in casa? Mano mano arriva una denuncia di qua, una denuncia di là, una figlia, un marito che dicono ma veramente un vicino, che dicono veramente abbiamo inutilmente chiamato per i giorni e giorni e non sarà certo colpa del 118 o di chi abbiano mai chiamato e che la situazione era tale che non si riusciva a ricoprirla tutta. E allora certamente che è da ripensare il sistema sanitario nel quale andiamo tanto tronfiamenti orgogliosi e che negli ultimi 8-9 anni è stato massacrato chiudendo di tutto e di più, ospedali, posti letto, falcidiando i medici, riducendo i medici, dicendo che ce n'erano troppi, che non ne avevamo bisogno, massacrando quelli privati, di tasse, penalizzando gli studi medici privati, tutte le cose delle quali oggi hai uno straordinario, incredibile bisogno. Va bene. In Italia oggi vediamo il bollettino, se vi interessa, ma l'avrete già sentito, comunque 124.632 le persone che hanno contratto il virus dall'inizio dell'epidemia, rispetto a ieri 4.805 persone in più, come vedete, difficile dire che si sia raggiunto il picco che stia cominciando a calare seriamente, 4% in più di ieri, i casi attivi sono 86.274, i morti salgono a 15.362 più 68.1 rispetto a ieri, i dimessi sono più 12.38, 20.996, dicono che per la prima volta scendono le persone ricoverate in terapia intensiva, 74 in meno rispetto a ieri, vi assicuro però che non si può dire questo calo di malati, che pure uno saluta con gioia, sia rispetto però al numero di ammalati, questo calo di terapia intensiva, rispetto al numero di ammalati e al numero di morti, c'è poco da essere, non è una curva di discesa, ma non può essere una curva di discesa se l'unica cosa è chiuderci in casa e basta, come si faceva nel 1300 o nel 1400, come si faceva per le pestilenze. Allora, metodo cinese, chiudere, lì hanno chiuso un'intera regione, se qualcuno usciva lo fucilavano, no? Una regione delle tante, qui hanno chiuso tutto il paese, non si produce più, ci sono aziende che non repriranno mai più e rispetto a questo non si sta facendo assolutamente nulla e che cosa deve accadere secondo voi? O miracolo dal cielo, oltretutto hanno anche chiuso, non ci sono neanche le messe di Pasqua che invece potrebbero con le persone a distanza esserci, perché se uno sente il bisogno da darsi a sentire per Pasqua una messa, forse così come sono aperti i supermercati e i tabaccai, a chi ne sente il bisogno dovrebbe essere consentito e va bene. Ho anche dati regione per regione, ma vedi risparmio, sono in Piemonte molto forti, più 7,5, più 6% in Liguria, in Campania più 5,6, in Toscana più 3,1, in Sicilia più 3,9, nel Lazio più 4,4, Friuli più 5,7 e così via, insomma sono in momento ovunque, però con regioni come per esempio la Puglia, come per esempio l'ombra, l'Umbria come per esempio le Marche e la Toscana in cui questo aumento è molto più limitato, sono regioni nelle quali non solo non è arrivato il picco, ma potrebbe non arrivare mai, per quello che ne sappiamo, se qualcuno ci spiegasse il perché sapesse dirci qual è la ragione, ma non la sappiamo, forse perché lì quando c'è stata la grande fuga tra Lombardia, la famosa sera dalle zone rosse, dichiarate rosse, la famosa sera che alle 8 l'hanno fatto sapere e alle 2 è diventato ufficiale, forse meno persone sono andate in quelle regioni, sono andate quasi tutte in quelle altre, non ve lo so dire, non ve lo so dire, io come voi, come nessuno di noi, come mai a nessun medico l'ho sentito dire il perché sia accaduto questo. Mentre procediamo in questo modo e vi ripeto, si continua a parlare in maniera abbastanza vaga di cose da fare per oltre al, mentre per esempio sento dire al commissario straordinario Domenico Arcuri, il quale si è tenuto naturalmente il posto precedente, quello di Invitalia, gli sento dire potremmo avere queste mascherine a disposizione a metà giugno, quindi epidemia finita, complimenti vivissimi, lo dici con quella faccia e questo non ti smuove qualche cosa, non ti fa mettere a correre e a trovare queste mascherine in qualche modo, a togliere quel modulo, a togliere quell'altro, no, niente da fare, tutti lì, e lì il presidente dell'Inps che ha gridato agli hacker e quindi ha anche imbrogliato spudoratamente, e lì il ministro reglienterno di Lamorgese che correggendo una circolare con un'altra circolare ha fatto sì che la gente credesse di poter riuscire a correre un po' e a portare i bambini fuori, sono tutti là, non si muove nessuno e saranno lì anche quelli che lunedì all'Eurogruppo proporranno una roba che si può chiamare SURE, si può chiamare MES, si può chiamare BEI e tutti e tre sono da rifiutare, 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 perché tutti e tre questi metodi ci resistiscono solo i nostri soldi che noi gli abbiamo versato senza condizioni, ce ne resistiscono di meno il 2% del PIL, 100 euro nostri solo se gli diamo, come dice giustamente nel suo tweet Claudio Borghi, le chiavi di casa, non è neanche una questione di troica, è proprio una questione che oggi con 15 mila morti e il paese fermo da un mese siamo ancora ad avviare complicate trattative nelle quali siamo già pronti a cedere con altri 18 paesi e ci domandiamo se l'Unione Europea sia fallita, abbia fallito il proprio compito o no, prendiamone atto, molto semplicemente, anziché essere pronta una task force che intanto caccia i quattrini e poi si vede che cosa succede, è successa questa roba qui, prendiamone atto e prendiamo anche atto del fatto che non esiste un MES, la sentirete dire questa parola nei prossimi giorni più di quanto non l'abbiate sentita fino a oggi, non esiste un MES senza condizioni e se anche esistesse sarebbe da rifiutare lo stesso oggi perché le condizioni si possono mettere dopo, possono apparire dopo, possono essere reinserite a maggioranza qualificata senza la nostra approvazione e perché per trattato di istituzione di questa organizzazione, il creditore privilegiato prenderebbe prima lui i nostri soldi in futuro anche rispetto ai titoli di Stato che noi dovessimo mettere. Chiaro, quindi? Quindi, allora, quello che stanno trattando, l'ho detto bene oggi Salvini dalla Latella, Sky TG24, quello che stiamo trattando è se questo MES, è se ci ammazzano con una pistola, con una spada, con un pugnale o con un coltellino, sempre stanno tentando di ammazzarci e probabilmente ci riusciranno, se qualcuno non si mette di mezzo, qualcuno come? Ma questo è un lungo discorso, che altro che devo dire del MES che mi ero scritta? La sentenza è attesa ai 5, se la corte si pronuncerà contro il bazooka di Mario Draghi salterà pure lo scudo appena lanciato dalla guarda, verrà discusso dal gruppo di martedì, clausole necessarie, catenaccio variabile, eccetera, eccetera, che altro che posso dire? Giuseppe Conte si dice contrario, si dice contrario, però i suoi tecnici hanno autorizzato il salvastati senza informarne il Parlamento ed è un gesto criminale, chiamiamo le cose con il loro nome, l'Italia ha già dato l'ok all'uso del MES, questo per quanto riguarda il MES e cerchiamo di… ah l'altra cosa interessante è che c'è un'intesa per quanto riguarda le nostre autostrade, le abbiamo vendute tedesche, svendute tedesche, altro che Golden Power. che vi volevo dire, vi dicevo del MES, vi dicevo del MES e seguitela questa cosa, perché noi stiamo per perdere 22 anni di crescita, già li abbiamo perduti e se non si riesce a, perché era a marzo, l'indice PMI sui risultati della manifattura c'era sceso ai minimi del 98%, la contrazione aveva colpito tutta l'Eurozona, ma noi, noi italiani, siamo 15 punti sotto la media, chiaro? Il governo promette liquidità e poi non ci dice con che garanzie in questo interverrà la cassa dei prestiti e questa situazione è drammatica. Prima di parlarvi della tendenza filo governativo antiregionale imperante, leggiamo qualche commento. Basta il giuntarò dell'Ital Exit, dice Guato Grosso. Lory, usciamo immediatamente dalla UE. Edda, il fratello di Marcucci ha una casa farmaceutica, sì, lo so. È come al tempo di Poggiolini. Aldo Rigamonti, grazie, Daniela Prota, grande, Simonetta Cavicchia, con un tipo come Conte, che si cara le braghe davanti alla Merkel e company, mi aspetto il peggio. Usciamo dall'Euro, usciamo dall'Euro, usciamo dall'Euro, dicono tutti. Oppure Patrizia Arametta, buonasera Patrizia, solo Trump ci può salvare da questi criminali. Come? 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 Chi gliel'ha chiesto? Chi gli chiede qualcosa? Come ci stiamo muovendo? Come si sta tentando di ridefinire la geopolitica di questo paese? È come se fosse una sorta di socialismo cubano in salsa mediterranea, se continua così, con le aziende che chiudono e non riapriranno più tutto quel poco che c'è statalizzato, vi rendete conto? Con i sovietici, i cinesi che scorrazzano, gli stessi tedeschi che scorrazzano per questa nazione a ricerca di roba da comprare, come se fossero in un outlet a caccia di saldi, per amor di Dio. C'è una pessima situazione, mi dovete credere. L'attacco a Fontana, dice Massimiliano Erato, è solo perché la Lombardia è sotto gli occhi del mondo e sta dettando la linea guidata a tutti, compreso al governo italiano. Questa cosa le sta facendo impazzire. Il mondo chiama in Lombardia per consigli, gestione e terapia. A Roma non se ne sta cagando nessuno. Ricordare che in Lombardia il virus ha preso la sprovvista, in ogni altra parte del mondo, probabilmente soprattutto in Italia, sarebbe stata una strage. Sono completamente d'accordo con questo ascoltatore e totalmente d'accordo. La ringrazio per la capacità di sintesi. Ricordatevi sempre, si ricostruisce in poche parole, in poche frasi. Quando è arrivato il virus, nessuno ha ascoltato gli appelli dei governatori del Veneto e della Lombardia perché venissero attuate immediate misure di contenimento del contagio e di prevenzione. Tutti li hanno presi in giro. È seguita l'epoca di mangiati lo spring roll, abbracciati il cinese, se vai al ristorante cinese. Il 21 febbraio, fino al 26 febbraio, i sindaci come Giorgio Gori di Bergamo, che oggi si permettono di attaccare il governatore Fontana, stavano al ristorante con la moglie, con Cristina Parodi e invitavano ad andare al ristorante. Lo spot del ministro della Sanità faceva vedere un personaggio TV che si chiama Michele Mirabella, con in mano le bacchette cinesi, che diceva che il contagio non è facile, una cosa è certa. La stessa cosa ripeteva in televisione il presidente del Consiglio, il quale poi a domanda se fossimo pronti o no diceva prontissimi. Questa è la situazione nella quale i governatori di Lombardia e Veneto si sono ritrovati a essere l'epicento del contagio, non certo per scelta dei Lombardi e dei Veneti, ma perché lì tra cinesi, tra fiere, tra ritorno in massa dei cinesi dopo il Capodanno e nessuna misura, vi ricordate quando gli davano dei fascioleghisti a partire dal governatore Rossi, PD della Toscana, fascioleghisti, zingaretti, non si fa così, noi come diciamo voi siete così, io mi sono trovato una sera, l'amico Piero Sassonetti dirmi tu che hai finito di prenderla con i negri, te la prendi con i cinesi, ragazzi tutto bisogna ricordarsi, ci dobbiamo ricordare tutto perché solo se non ci cala la memoria e gli italiani hanno una memoria terribilmente labile, è una virtù avere cattiva memoria perché se hai cattiva memoria hai meno sensi di colpa, se hai cattiva memoria campi in modo più leggero, non ci sono convinta di questo, ma ci sono dei casi in cui la memoria, quella delle cose orribili va coltivata e ricordatevelo, che adesso se la prendono con due governatori che hanno affrontato in modo diverso perché hanno strutture ospedaliere diverse, non vi dimenticate che la Lombardia ospita 100.000 ricoveri di gente che viene dal sud dell'Italia ogni anno, quindi ha una struttura ospedale più massiccia di quella veneta e meno decentrata, più fatta di grandi ospedali. e vi dicevo, questi paesi hanno fatto un miracolo, un miracolo e lo stanno continuando a fare, sono devastate queste due regioni, ma l'hanno fatto in modo diverso. Il Veneto, sapete cosa ha fatto il diverso, il governatore Zaia rispetto a Fontana? Ha disobbedito all'istituto superiore di sanità, alla protezione civile, alla presidenza e al governo, ve lo dico io, questo ha fatto, ha fatto a modo suo, dopo che siccome ha osato dire che i cinesi si mangiano animali che a noi fanno orrore come i topi e i pipistrelli anche vivi e che gli ha dato addosso di nuovo tutto il politically correct del mondo, ha smesso di parlare, ha chiesto scusa, ha smesso di parlare ed è andato avanti procedendo assieme al suo assessore alla sanità, assieme ai suoi esperti medici, a modo suo, che è il seguente. Oggi, 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 ha potuto dire, abbiamo in tutto 325 persone in terapia intensiva, sono la nostra grande preoccupazione, questa settimana è quella critica, c'è un lento recupero, dobbiamo mantenere le restrizioni. Il Veneto, secondo uno studio di Google, ma anche uno studio della Harvard University, Business School, sono stati più virtuosi sugli spostamenti. Da 5 milioni di traffico stadale, siamo arrivati alla metà, ci aspetta una settimana determinante, questo è Zaia che parla stamattina, ve lo leggo perché ti vi dà l'idea di come si è mosso. Si confermano le restrizioni attuali, come la regola del raggio di 200 metri e le motivazioni per uscire di casa. Abbiamo chiedito anche la questione dei florovivaisti che possono fare consegni a domicilio e manutenzione, cioè giardinieri può andare a casa e consegnare dei fiori. Faremo un'altra ordinanza in queste ore per chiedere che anche tabacchini ed edicole possono vendere articoli di cancelleria. Quindi la gente dal tabaccaio e all'edicola può comprare altre cose che non trova in questo momento. Ieri sera abbiamo fatto una videoconferenza dei Cezzaia con il Presidente del Consiglio, al quale ho confermato che noi stiamo redigendo un piano per la riapertura. occhio, quindi è pronto un piano per la riapertura, col cavolo che è pronto a livello nazionale. Piano che visto che le riaperture vengono decise dal governo mettiamo a disposizione dell'esecutivo, c'è anche una vagaronia, c'è del sarcasmo, del doge. Abbiamo parlato anche dei testi erologici, attenzione, di questi testi erologici che sarebbero risolutivi per alcune cose perché ti dicono se l'hai avuto, se l'hai avuto questo maledetto virus e sei guarito, gli asintomatici e i guariti, indica il testi erologico, è una punturina sul dito come quando ti fanno l'esame per la glicemia. Ancora oggi dicevano che va perfezionato, che non si sa e così via, perché non è nessuno in grado di farlo. Dice Zai, abbiamo parlato anche dei testi erologici, se un test è validato dal punto di vista scientifico, io non ci vedo niente di male a usarlo per la riapertura. Noi siamo stati criticati per i tamponi, ci dissero che era irrispettoso delle linee guida e inutile, poi abbiamo visto quanto utile sia invece stato, capito? Insolente pensare che qualcuno voglia togliere la sanità ai veneti per darla allo stato centrale, roba che circola come vi dicevo in questi giorni. Lo ripeto, sono disposto a fare un referendum per chiedere ai veneti da chi vogliono farsi curare e poi vediamo come va. Capito che cosa ha fatto Zai? Ha fatto a modo suo, ha firmato lo stato di crisi per il settore primario del Veneto motivato dalla necessità di limitare con tempestività gli impatti economici, sociali e ambientali del coronavirus, che ha recato all'agricoltura, pesca e alle produzioni e con la dichiarazione di stato di crisi la regione Veneto chiede che siano definiti gli strumenti finalizzati alla ripresa economica, nell'ambito delle disposizioni nazionali ed europee, ciò ha presentato il conto al governo nazionale. nel frattempo invece ha ribadito qual è il metodo che ha seguito la regione Veneto e vi posso dire che è un metodo che ha avuto un grandissimo successo perché la regione Veneto a differenza in questo della Lombardia, altri numeri, altra situazione, altri flussi, però anche a un certo punto che ha fatto Zai? Zitto zitto si è messo a fare i tamponi a tutti, si è messo a fare i tamponi a tutti e ha imposto la mascherina a tutti e ora sta facendo fare i testereologici a tutti, se le ha comprate privatamente, zitto zitto, scavalcando la burocrazia con i poteri che un governatore ha, dall'altra parte Fontana, del quale ora dicono che si lagna, Luca Telese osa dire basta con la lagna di Fontana, è da prenderlo a calci, io voglio bene Luca, è un mio amico, ma queste strumentalizzazioni sono di una vulgarità che fa paura, perché invece poi lui dice che quel che fa il governo è sacro santo, ragazzi, marchetti di condizioni ignobili perché stanno riparando il partito di Conte, lo riparano così, gli italiani sappiano. E mi è arrivato nel pomeriggio un'agenzia, una nota di stampa della Lega che racconta che avendo circa 800 sindaci in tutta Italia, io mi sono molto appassionata in questi giorni ai modi di fare dei sindaci, anche a quelli più da sceriffo, a quelli più brutali, a quelli che normalmente mi danno fastidio, perché Mette Luca è un personaggio che dà fastidio, per esempio. Mi danno fastidio questi che arrivano loro petto in fuori, vanno c'è in dentro e fanno i ducetti, no, non mi piacciono, non mi piacciono gente che ragiona, che argomenta, che è autorevole naturalmente e che poi prende una decisione e se ne assume la responsabilità. Però eroi, ragazzi, eroi veri, cioè gente che si è trovata in situazioni, paesini isolati, paesini in cui erano ammalati tutti, in cui non funzionava più nulla, disperati, senza riuscire ad avere una mano da fuori, insomma. La Lega ha circa 800 sindaci in tutta Italia, di cui quasi 200 nelle regioni di Lombardia. E allora, negli ultimi giorni che ha fatto la Lega e Salvini, hanno contattato tutti i primi cittadini di tutte le stazioni politiche e ne hanno raccolto segnalazioni, richieste e consigli, hanno preparato un cahier, sì, di doleans, certamente, ma anche una roba di, non solo lamentela, anche una cosa in cui raccontano quello che sono riusciti a fare. Che ne so, vediamo. Il sindaco di Assegno, Como, Stefano Cozzani, ha acquistato e distribuito gratuitamente mascherine alla cittadinanza e ha attivato il servizio di consegna domiciliare e di genere alimentari e farmaci. Il sindaco di Mariano Comense, Como, Giovanni Alberti, ha attivato il servizio di consegna domiciliare e di genere alimentari e prime necessità e farmaci e ha previsto lo specifico servizio di supporto a persone sopra i 65 anni sole e compatrià di fragilità. Vado giù perché è un elenco che non finisce più. Il sindaco di Gallarate, Varese, ha acquistato e distribuito mascherine protettive e ha garantito un servizio di consegna domicilio, di genere alimentari e farmaci. Ha adottato anche un supporto specifico ai neogenitori e alle donne in gravidanza e così via. Il sindaco di Piura non finisce più, è molto lungo, è un elenco di decine e decine di sindaci, alcuni dei quali veramente sono stati disperati perché hanno avuto, ripeto, una quantità spaventosa di contagio. guardate, sto scorrendo col computer e non finisco mai l'ultimo. Il sindaco di Piura, Sondrio, Omar Jacomella, ha acquistato e distribuito mascherine alla popolazione e ha attivato con Slow Food un particolare servizio di consegna a domicilio di prodotti tipici del territorio fornite alle aziende agricole locali. quello di San Genesio ha acquistato, San Genesio, Pavia, ha acquistato e recapitato ai cittadini le mascherine insieme alla Croce Rossa a Federal Farmer, ha attivato un servizio di ritiro delle ricette mediche e di consegna a domicilio dei farmaci per pazienti, persone con disabilità e fragilità, sì perché io dicevo decine e decine di mail, di messaggi su un messenger che mi dicono non siamo in condizione di uscire a prendersi le medicine, abbiamo chiamato la guardia medica e ci hanno detto non siamo i suoi postini e non siamo i suoi servi, ora io capisco anche il nervosismo perché sono uberati, ma se uno ha bisogno di un farmaco, quel farmaco l'ha finito, è una persona anziana, non si fida di uscire anche perché teme che gli facciano la multa la sanzione venale o perché non ha la mascherina e chiede che è possibile che, e invece vedete che questo succede nei centri grandi di non riuscire ad avere aiuto, invece vedete che nei centri piccoli è tutto più semplice. Vi dicevo, per chiudere il ragionamento di oggi poi leggo qualche altro commento e poi vi saluto. Aprire o non aprire, chiudere o non chiudere, sottende questa cosa del riaprire comunque, che poi è quello che pensa anche Trump, è quello che pensano in parecchi, in Italia l'ha proposto Renzi, ma insomma adesso vedete che Zaia dice che noi siamo pronti per la riapertura. Riaprire cosa vuol dire? Partiamo dal presupposto che le persone meno anziane e meno malate e meno fragili, se anche si prendono, se lo sono già preso, se anche si prendono il virus cinese, hanno la forza di reagire in modo che li portassero facilmente a guarigione. Gli altri restano dentro, gli anziani restano dentro, escono i più giovani e si riapre. Sì, però io vorrei chiedere, chiedere naturalmente al governo, non a voi, si riapre che? E per fare che? Con quale progetto? Con quali fondi? Con quali prestiti a tazzo zero? Con quale proposito di riconvertire ciò che andrà riconvertito? Chiudere ciò che deve essere chiuso per aprire cose diverse che serviranno di più nell'economia del dopo virus? Avendo sospeso o abolito quali tasse? Quali balzelli? Avendo dato quali garanzie che ti danno il necessario? In Svizzera abbiamo sentito molto in questi giorni, tu che fai? Sei un'azienda, vuoi sopravvivere, vuoi sperare di riaprire? Mandi un modulo e dici io l'anno scorso, per esempio, ho fatturato 200.000 e nel giro di poche ore ti trovi 20.000 euro in banca, cioè il 10% del tuo fatturato dell'anno precedente. Ecco, con quello tu intanto sopravvivi e poi se devi riaprire sai come fare. Ma non è solo questo, non è solamente che alcuni non avranno i soldi per riaprire e anche che ci saranno alcune produzioni che non saranno necessarie o non avranno senso nell'immediato dopo guerra di virus e invece ce ne saranno altre che sarà necessario produrre e che già ora si è visto che scarseggiano e andranno prodotte indirizzando quelle produzioni, cioè pensando che c'è distruzione ma c'è creazione che può nascere dalla distruzione, indirizzando quelle produzioni nuove, spiegando che se certe cose chiudono non è una tragedia, non è la fine del mondo perché puoi riaprire facendo altro, no? E però per fare, e dandoti gli strumenti per farlo. E però, perché tutto ciò sia possibile, perché uno che aveva un ristorante anziché ritrovarsi su un lastre con lui e i suoi dipendenti abbia il denaro e le risorse per aprire, che ne so, fatemi dire una sciocchezza, una fabbrichetta di mascherine, bisogna che ci sia un piano, che ci sia chi le sta pensando queste cose, chi ha un'idea di come sia distribuita l'economia, il commercio nelle città grandi, piccole, che cosa si può produrre dove, come, tutto questo, io, in due mesi abbondanti, che sì, perché due mesi abbondanti sono di sicuro da metà febbraio, dai, in cui sento parlare quasi tutti i giorni, questi, in tutte le salse, non ho ancora sentito una frase, un proposito, un progetto, un moduletto, una paginetta che ci rassicuri dal punto di vista che il governo, perché il governo deve prendere la responsabilità con i ministri e, passando per il Parlamento, sta pensando a che cosa diventerà l'Italia, altro che MES, diventerà l'Italia dopo il virus cinese, che tipo di riconversione sarà necessaria perché questa società non solo sopravviva, ma mantenga le proprie caratteristiche migliori, boh, mistero, ed è questa la cosa che mi turba di più, leggo qualche commento e poi vi saluto. Carla, buonasera dalla Toscana, ho paura del MES, ma credo che alla fine si attuerà in Europa, l'Europa lo vuole, certo, anche io lo temo, anche io non sono d'accordo per il MES, dice Brunetta, buonasera Maria Antonietta, buonasera Teresa, sai quanti voti prenderebbe? Tantissimi, non so a chi si riferisca, risponde a Susanna. Salman Hasa, perché non cacciare dall'Europa la Germania e l'Olanda? Guardi, mi faccia dire una cosa poi su questo, stanno discutendo una norma sul Golden Power, che sia un contentino per condirci meglio il MES, Golden Power già si vede ora con la cosa dell'autostrada il 51% è tedesco, è solo sulla carta. Carolina, non si può avere peanuts, bisognerà che qualcuno si metta di mezzo. Tommy, uscire da questo incubo, contro nessuna autorevolezza in Europa, dice Antonella. Tanto non si esce, dice Gabriella, e Svezia dicono che è meglio far prendere il virus, ma no mani all'Inghilterra ci pensano a quello che diceva Boris Johnson. Francesca, Conte e Compa ne sono criminali, ma l'assassino è Mattarella. Buonasera, Mimmo dato, Mirella è un'altra vergogna italiana, Conte dovrebbe avere la decenza di dimettersi. Allora, rispetto al fatto che questi non hanno nessuna intenzione di dimettersi, anzi pensano di rafforzarsi, rispetto ai mezzi molto limitati che in una democrazia all'opposizione, quando non ha neanche maggioranza parlamentare, vorrei che rifletteste, cercaste di proporre, proporvi e attuare dei mezzi alternativi, perché qui in piazza non si può andare. E quindi che cosa rimane come forma di protesta alla nazione italiana, al popolo italiano, per evitare che vengano compiute prese delle decisioni che riteniamo contrarie al nostro interesse. È un argomento interessante, perché leggo gente che dice, ah, Salvini e Meloni stanno facendo troppo poco, ah, sono fragili, sono deboli, sono, oggi c'era un articoletto che diceva sono afoni, sono diventati afoni, ma che devono fare? Ma che devono fare? Qualcuno di voi mi dica che cosa secondo voi dovrebbero fare in una situazione in cui? Di fatto la democrazia sospesa hanno pieni poteri, ma se anche non li avessero in Parlamento cosa fai? Fai ostruzionismo, fai denunci al Paese, ma non è che hanno la maggioranza parlamentare, cosa vuoi fare? Puoi per esempio nel caso del MES fare una cosa molto interessante, scrivere, scrivere ai parlamentari 5 Stelle, scrivere a tutto il Movimento 5 Stelle, che ha nel suo programma fondante, no al MES, anzi di abolirlo, chiede lì se hanno intenzione di appoggiare con la loro maggioranza governativa, perché sono maggioranza nel governo e nel Parlamento, questo scempio. Questo potete fare, potete far arrivare migliaia, decine di migliaia, centinaia di migliaia, perfino milioni di letterine, messaggini, Whatsapp, quello che vi pare a voi, sms, intasagli Facebook, intasagli Twitter e Instagram, dicendo che cosa ne è stato nel vostro programma che diceva no al MES, il MES va abolito. Ecco, questo, visto che un po' vi lamentate, e lo capisco perché stare a casa è una grandissima rottura di scatole, con la prospettiva che quando tu non sai neanche che cosa produrrai e mangerai, vi suggerisco di cominciare a fare questo. Nel frattempo vi saluto, vi auguro per quel che si può. Una buona domenica, noi ci risentiamo, credo, martedì a solito orario delle 14.30. Buona serata, grazie, ciao.